Signore e signori, non solo, buonasera e bentornati a MarcoPlace a SolChain. Che è successo la scorsa volta? Ma direi poche cose, tipo lo scontro con Gena, lo scontro con Gena che si è trasformata, lo scontro con Gena che si è trasformato un'altra volta, lo scontro con Gena che è rimasto intrappolato in un'altra sua trasformazione, tante piattaforme che si sono alzate dal terreno perché comunque anche sempre la fusione tra piano strale e piano reale, Saber che diventa anche le stesse una chimera, Saber che praticamente muore, Saber che in effetti sì, per l'appunto diventa chimera, Joseph che chiama se altri corvi, l'altra parte dell'unità corvi perché non era soltanto Akira, assolutamente no, e abbattono Saber trasformata, che tra l'altro inizia un pochino anche a svanire attorno al cristallo tipico delle chimere dei Legion. Ah, Akira che diventa comandante dei corvi, la Neuron che viene smembrata, Olive che inizia a contattare Hal e che viene anche licenziata, nonché anche ricercata così come era stato ricercato Hal, Saber che torna in vita, perché sì, Saber torna in vita dopo tre giorni, manco fosse Gesù, Hal che organizza, penso che siamo nel settore quinto della zona 9, un nuovo centro per tutte le varie cose che deve fare Saber eccetera eccetera, Olive che collabora con lui, un casino, un casino, e la Neuron è anche smembrata, quindi veramente smembrata a causa anche dei corvi, anche Marie ha perso, cioè addirittura ha detto che non c'è più l'appi, bovera Marie, o meglio l'appi è stato mandato di nuovo per il traffico, no, Marie è stato mandato di nuovo per il traffico, quindi, scusate. Beh sì, alla fin fine questo conferma che è tutto a posto come audio, no? Perché in effetti io faccio sempre questa cosa che vedo anche su Twitch per capire se la questione audio è a posto oppure no. È buono che è tutto a posto, va bene. Quindi direi che si può andare. Allora, prima cosa, sì, che tra l'altro Al ci ha dato altri abiti che sono stati definiti abiti sciatti, letteralmente. Quindi andiamo all'armadietto. Equipaggiamento dove costume, abiti civili scialbi, eh, non sciatti scialbi, sì sì sì, eccoci qua. Un po' come se sono sciatti a queste texture dei tubi, ma vabbè. Ecco, ecco, giusto, giusto, pulire, pulire, pulire Legion. Non ho tensione. Primo andato. Secondo. Terzo. Ma che diamine? Oh, guarda che bello, come nuovo. Poi andiamo. Ok. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Stati fermo, Shiro Emiya, stati fermo. Cambiamo Legion, perfetto. Ok. Occhio. Allora, se ti stai fermo un attimo. Perfetto. Ah, a posto. Mi sa che ho utilizzato pochissimo bestia. Aveva soltanto un frammento qua. E adesso andiamo anche ad Ash. E molto poco anche Ash, in effetti. Sempre con questo effetto dell'Asha che viene tagliata dalla prospettiva, dall'effetto olografico. Ma va bene così. E l'Asha che ci finisce in testa. Ok. Quindi, con Religion, no, va bene così. Va bene. PC per salvare. Al? Al dice un po' Al? No, non parliamo con Al e con Olvi, però mi sa, sì. Beh, guarda, siamo soltanto morti e risorti. Quindi. Perciò. Vediamo un pochino. Sì, sì, sì. Questo è chiaramente, beh, in effetti Al ha detto che sarebbe tornato da quelle parti. Quindi questo è il settore quinto della zona 9. Ma soprattutto, mizzica. Vediamo un po' qua. Mercante losco. Benissimo. Un uomo elegante. Se lo dici tu, contenti tutti. Vediamo il mercante invece. Beh, chiacchieriamo anche. Ah, che problemi! Vediamo un po' che ha. Io tra l'altro ho avuto 34.000, perciò... Che posso prendere? Campo di forza... Ne voglio due. No, uno, cioè. Ma, un secondo. Tabitha! Tabitha poi ci aiutava per gli upgrade sia del manganello che del legatus. Chi ci aiuta a questo punto per quelli? Drone lanciarazzi 1. Che poi in effetti non ho mai equipaggiato i droni. Vabbè, li prendo comunque per sicurezza. Va bene. Oh là! Subito prendiamo. Va bene! No, perché si dice che ha fame. Non è che posso contestarlo, no? Per di qua c'è... Una missione! No, innamorato! Ma io questo modello l'ho già visto nel gioco. Tra l'altro, vabbè. Sembra un po'... Forse... Sembra un pochino Akiro, mi sbaglio. Improvviso! Cioè, scusatemi! No, Olive è comunque una bella ragazza, però... Molto improvviso, tu! Vabbè, almeno proviamoci. Prova con un regalo. Non mi... Non mi stupisci! No, Sembra, sei un po' spietata, però. Va bene che sei morta e risolta, ma... Un minimo di tatto, ti prego! Non mi stupisci! Calmati! Prova con un regalo. Facciamo le cose normali. Sì, ma basta guardare verso l'alto e verso il basso. Guarda in faccia! E cacchio, questo è complicato, sì. Tu ci stai chiedendo di spiare? Vabbè che è tanto la missione del gioco, quindi la facciamo, però. Sì, sì, tanto so che dobbiamo fare. Stiamo in Legion per scopi di questo tipo. Va bene. Ok, quindi andiamo un attimo. Voglio vedere un secondo che c'è... No, di qua niente, ma di qua invece... Ah, no, 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 giusto, giusto, giusto. Ci siamo andati prima. Riscendiamo. Tra l'altro mi domando, visto che ho accettato la prima missione secondaria, quante sono le missioni qua? Cacchio! 15 missioni rosse! Tra l'altro ce ne sono già qui, vabbè, in cerca di guai, salvataggio felino. La banda al completo, a cacchio... Oh, vabbè, che cacchio, mi sono anche spoilerato che la banda ritorna al completo, quindi mi sa che ci sono... Anche Jean, Alicia... Akira mi sa di no. Akira, dubito, visto il ruolo che sta ricoprendo in questo momento. Scusate un attimo. Vabbè, tanto sono gli altri piani. Ok, 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 con calma. Vediamo. No, non posso. Va bene, va bene, va bene, ok. E come stracacchio faccio allora? Cioè, scusa un attimo. Forse ad Al, ecco, ad Al, ad Al, magari. Al? Sì. Ecco, appunto. Tra l'altro, vorrei far notare che... Ragazzi, Oliu sarebbe anche qua, eh, ci sarebbe anche guardando. Ma prego, continuate a parlare del regalo così tranquillamente. No, 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 fate come se non ci fosse proprio. Tranquilli, ragazzi. Al! So che non è la tua intenzione, ma... Stai provando a dire che... Oliu dovrebbe dimagrire? No, nel senso! Cioè... Ah, sì, sì, sì. Per me potrebbe anche leggerla in quell'altro senso. Ma quindi, andiamo a chiedere anche ad altri? Chiediamo anche ad Oliu stessa, tanto. No, 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 no. Ma comunque ci stavi guardando, Oliu. Cioè, o sei sordo, oppure hai deciso di ignorare bellamente solo per farci un favore. Ma posso tornare sopra? Perché spero di poter tornare sopra. Ah, sì, 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 sì. Ok, 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 ok. Era solo per capire. No, non è... Vabbè, tanto il gioco ti avverte se c'è un momento in cui... Da lì in poi non puoi fare altro. Ti avverte, ti avverte. Ok, quindi uomo indaffarato, uomo addirato. Aspetto, vabbè, facciamo subito così. Ah, anche un po' di materia crema, sì. Anche questo. Anche questo. Uomo indaffarato. Anche... Mi fai andare? Ok. Poi. Anche qua, ma vieni. Raccogli. Bivita Bignè. Ah, Bignè. Andiamo. Ascoltiamo. È una pessima cera. Che cosa ti è successo? Hai sentito quella banda di tepiste del loro presunto bottino nascosto, no? Non c'era nessuno di loro in giro. Quindi ho pensato di metterci sopra le mani. Ed è stato allora che mi hanno aggredito. Eh, che peccato. Però almeno hai trovato i soldi, no? Non ho visto nemmeno un G in giro. E se l'avessero sepolto da qualche parte? Sepolto, hai detto? Parliamo anche con questo qui. Uomo indaffarato. Vediamo un pochino. È complicato. Portando della roba al magazzino. Ma ho appena trovato la chiave che gli servirebbe per entrare. La prendo io? Sì, sì, sì. Facciamo noi. Ok. Sì, sì, in effetti. Quindi facciamo questa ladò che ci siamo. Ah no, no, no. Aspetta, aspetta un secondo. Quindi. Così. No, no, io voglio... Aspetta. Aspetta. Priorità. Priorità, priorità, priorità. Ma perché non me la indica sulla mappa? Accidenti. Vabbè, parliamo... Uh, una delle missioni qua. Donna ansiosa. Ma tu guarda! Donna ansiosa che dice che ha ansia. Mizzica! Vabbè. In realtà si può anche parlare. Nebbia che ti avvolge? E che nebbia è? Ok. Facciamo anche questo. Sì, iniziamo ad attivare un pochino di missioni così. Ah, anche facciamo un bel giro qua. Scusate un attimo. Via. Ebbè, è grazie che è intuntita. È... È contaminata. Ma facciamo subito. Allora, il fatto che ci sia... Questo dell'immondizia e che sia un'aria così mi fa pensare che qui potrebbe anche se c'è un combattimento, poi. Si scende anche. Si scende anche. Vabbè, dai. Per di qua. Vediamo che altro... Quanto è grande questa zona, in effetti? Anche di qua. Aspetta, un secondo, mi domando. No, non abbiamo... No, non ci sta... Un micio pronto. Là. Pronto manco fosse... Una cosa... Allora. Vediamo un secondo, perché in effetti se continuo così poi... Non torno più sopra. Quindi, facciamo che... Eh, sì. Torniamo su. Va, va, va. Torniamo su. Grande questa zona, comunque. Quindi, 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 quindi... Vabbè, questa è un'altra zona. Perito. Alla. Un perito molto distratto, aggiungerei. Uh, olive. Ah no, Hal. Subito. Che mi dice? Della distanza? Eh, sì. Mi dice due metri. Ah, aspetta. Ah, ok. Giusto, sì, sì, sì. Giusto, giusto. Ah, bello. Facciamolo, facciamolo. Quindi, vediamo un attimo. Quindi, misuro la distanza. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Allora, facciamo. Ok. Ok. Tra l'altro vediamo che è alto 168.8 centimetri. Pesa. È leggero. Molto leggero. Quindi, vediamo. Direi che sono 14. 14, 14, 14. Vabbè, quindi ci facciamo. Dalla cima del container? Eh, sì, scusami, ma... Vabbè, devo salire. Devo salire, devo salire. Prendiamo anche un pochino qua. Parapapapa. Vabbè, possiamo anche fare. Così. Non ancora, non ancora. Vorrei anche... No, non voglio provare... Non voglio rischiare qua. Se mi facessi salire... Grazie. Aspetta, posso anche fregarlo, forse. Di niente, ma forse ce la faccio? No! Accidenti! Di niente! Di niente! Perché altrimenti devo fare un giro moolto lungo, mi sa. Vediamo quanto lungo, in effetti. No. No, no, no. Allora come? Quindi, in effetti, devo... Ah, no, forse ho capito, forse ho capito. Vabbè, scemo io. Volevo fregarlo, però... Basta fare così. Non... Non ci va! Accidenti, non ci va! Quindi, devo andare al limite... Saber! Saber, c'è. Matti! Ce l'ho fatta! Ok. Adesso, un attimo. No. No. No, 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 no. Così no. Ah, 17, quindi sarà 18. Andiamo. No! Non volevo scontrarmi! Sono qui per i feriti delle misure. Andiamo. Sì? Oh! Ho capito, ho capito, ho capito. Differenza, differenza. Facciamo prima da qui e poi da qui. Quindi... 22, meno... 7, 15. Perfetto. Missione compiuta. Ah, beh, che comunque si è l'aria molto grande. Sì! Lo sto vedendo. Ah! È brutto perché... Da un certo punto di vista potrebbe anche sembrare che lo stia dicendo a noi che siamo bravi cagnoni. Soprattutto visto che Saber è una ragazza, è molto problematico! Soprattutto perché non si tratta di Boris, la serie televisiva. Ma la domanda è... Can you pet the dog in a star chain? You can't pet the dog in a star chain. Oh... Oh, eh. Oh, eh. No! Oh, eh. Sempre problemi da questi input, accidenti. Carlos! Carlos, l'uomo dal pathos irrefrenabile! Carlos! Però cacchio, sta male. Eccolo il pathos suo, inutile, però... Cacchio. No, che è successo, Carlos? No, 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 no. Madonna santa! Mio Dio! È prima con l'uomo innamorato. La risposta è così. E adesso anche questa. Carlos chi? Ma... Ma... Saber! Un minimo di tatto! Ti prego! Madonna santa, com'è cambiato! No, scusa. No, scusa. No, no, no. Carlos! Carlos, aspetta. Carlos! 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 Ah, ecco. Ah, ecco. Ecco la banda al completo. Ah, quindi non la banda nostra, quella che inseguiva Carlos. Mannaggia! Vabbè. Adesso sì che utilizziamo però bestia. Un attimo. Ok, fai fiutare. No, perché ho visto che Saber stava un pochino rimbalzando, vabbè. Per la differenza di piano. Andiamo! Vai, 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 vai. Aspetta, aspetta un attimo. Aspetta, 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 aspetta. Giusto, 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 giusto. Qua. Scava una buca, scava una buca, scava una buca. Vai. Torna a cercare. Vai, 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 vai. Scusa un attimo. Adesso torna a cercare. Questa era da combattimento bella forte, mi sa. Ah, la va anche a prendere. Aspetta un attimo, scusami, visto che ci siamo. Ah, vedo che ci sono. Quelli sono i rilevatori della polizia, per caso. Scusami però, visto che ci siamo, cara bestia. Ah, siamo comunque al 13%. Temevo di più. Temevo che avrò indicato di più ad arrivare a percentuali. Eh, già 14, ah. Uh, scava, scava, scava. Vedo un pochino che c'è qua. Per velocità. Carica indicatore, buono. Aspetta. Mi sa che alla fin fine, comunque sia, sono andato nel... No, 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 assolutamente no. Perché comunque sia, ho visto che il radar è diventato rosso all'improvviso. No, aspetta, aspetta. Quindi, vediamo un attimino. Adesso si... Oh, uomo entusiasta! Allora, prima Carlos, eh, prima Carlos, prima Carlos. Poi lui. No, aspetta, un attimo, scusami un attimo. Bestia, scusami un secondo. Qui la pausa è necessaria. Prendiamo anche qua, poi. Ha fatto un saltino l'imbecille. Scusami. Madonna, però, siamo circondati. Oh, la banda! No, no, Carlos! No, 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 no. Allora, ragazzi... E arriviamo anche di gran carriera. Ti salvo la vita, Carlos. Chissà chi sei. Ok, voglio aiutarti meglio. Oh, una volta, sono in tua debta. Questo torna la tarda in favore della legge. Madonna, sì! Sì, 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 perfetto. La schivata perfetta. Perfetta. Donna. Vabbè, ho utilizzato soltanto bestia, però è bastato. Aspetta che c'è un altro. Con tutto che voglio bene a Carlos strambo un po' ci sta. Però mi dispiace dirglielo. Che cacchio sta arrivando? Non mi direte che è essere un'eremita pompato? cosa cacchio? Ma no! No, 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 Carlos il mio lastrale! No! No, 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 no. Subito prendere Carlos. Subito, subito, subito. Ma pure il capo della banda. Ma che cacchio? Il drammico se l'improvviso, ma... Tra l'altro proprio è salito il portale. Ok, andiamo! Vediamo, ma mi domando... Sarà portale lungo o portale corto? No, corto, corto, corto. Cioè, non troppo corto, però sembra percorso. Non è solamente arena. Però non è lunghissimo, penso. Siamo già al 40%. Della missione, dico. Ok. Vediamo, c'è qualcosa? Sì, 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 ecco perché. No, 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 scusa un attimo. Però di qua sì. No! Accidenti! Accidenti! Troppo lungo! Iniziano... Allora, un attimo. Dov'è che era? Era... Era per di qua. Ok, a posto. Sì, però... Va benissimo così. Sì, sì, sì. Ok, quindi per di qua. Per di qua. C'è qualcosa qui? No, qui, no. Beh, caro amico Asha, qua ti fai... Fai tante cose belle. Iniziamo. Madonna, quanto sei lento. Ma ha senso comunque. Ok, 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 ok. Poi per di qua. Ok, vediamo. C'è altro per di qua? No, non mi pare. A cerchi o perché è qua? Oh, 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 ecco, ecco, ecco! No, 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 mi dispiace. Sai che c'è? No! Vabbè, perché io mi sono richiamato da solo. Ok. No! Ah, stracaso! Ottimo! Vai! No, cacchio... Oi! Vai! Vai, 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 vai! Mattonna! Eh, sì! Arco anche, un pochino variamo. No, 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 no. No, cacchio, ho sbagliato qui. Ah, sì, adesso sì. Uh, un pochino in ritardo, però dai. Ah, Carlos, tu non lo sai. E poi ti spieghiamo. Sì, perché lui non fa parte della Neuron. Sì, no, scusa, Carlos, c'era un abissolo là. Come... Vabbè, lasciamo stare. E io ti chiedo, umilmente, di non venire intossicato. Perché in effetti Carlos è poliziotto normale, non della Neuron. Perciò, ovviamente... Ah, no, c'era il percorso, non l'avevo visto, non l'avevo visto. Bene, adesso ha un senso. Vabbè. Dicevo. Perché Carlos, in effetti, non è della Neuron. È un poliziotto normale, quindi... Lui non sa... Naffava un accidente di tutta la... Oh, oh, ma... Quindi non riesce neanche a vedere... Tipo bestia. Che scava. Bella! Ottimo. Però ci segue. E tutto questo è bellissimo. Qui serve possente. Che deve prendere anche. Che deve fare in effetti possente? Perché prende il pezzo, ok. Ma che bisogna fare? Non vedo... Aspetta, 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 aspetta. Oh, eccolo qua. Ok, ok, ok. Adesso ho capito. Vai! Carlos, spostati. Bravo, così. Incidenti! Carlos, bravo, 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 bravo. Rimani così. Bravo, figliolo. Rimani. Allora, un attimo. Rimani qui. Tu non stai capendo niente, ma... Fidati, è meglio per te. Ok. Adesso. No, però... Ce l'avevamo quasi. Adesso Asha può andare e... Combinare l'esplosione. Olè! No, quanto è lento. Vediamo, c'è altro qua? No, non mi pare. Andiamo. Carlos, seguimi! Aspetta, perché anche qui in effetti bestia ci sta. Vediamo per di qua. Vediamo. Anche questi possono essere fatti esplodere, ma dove sta la miccia? Ah, qui, 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 ok. No, ho sbagliato. Carlos, andiamo via subito. Subito, 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 subito. Qui che cacchio c'era, scusatemi. Qui cosa stracacchio c'era? Avanti, vai, 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 vai. Lento, ma deciso. Mi sa che ho perso qualcosa. Tipo... Oh, sei per calma! Sei per calma, ti. Ok. Un attimo per prendere qua, perché sennò impieghiamo mezz'ora con Asha. Vediamo. Ci vorrebbe qua un collegamento, ma non vedo in effetti. Dovrebbe esserci qua. Tipo... Tipo prima che c'era lo spazio dove si doveva mettere per l'appunto il blocco. A me che tra l'altro è anche esplosto, ovviamente. Ma non c'è lo spazio evidenziato. Quindi proviamo effettivamente a fare esplodere e vediamo che succede. Sarà diviso. Vabbè, vediamo. Carlos, di qua! Carlos, 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 vieni qua! Quindi, ok. Facciamo esplodere anche... Questa parte... Carlos, di qui! Vabbè, era soltanto per passare. Oh, oh! Il capobanda è tramortito. Il che è buono, perché è tramortito. Ma è anche male, perché chi è che l'ha tramortito? Ecco chi è che l'ha tramortito, che ostreva dall'alto minaccioso. Saber? Tu lo sai meglio di tutti. Saber? Brava. Minchia! Ovviamente, Artemide. Andiamo di nuovo. Accidenti! E visto che... Oh, no, no, bestia, bestia, bestia. Perfetto. Ma Carlos, che parla nel frattempo? Sì, però, aspetta, allora... No, accidenti! Facciamo subito. Valla, trovala, trovala! Trovala! Eccola. Allora, un attimo. No, accidenti. Vabbè, è meglio andare di là. Comunque, via! Accidenti, andiamo... No, aspetta un attimo, perché questo può... Ok. Subito. Sì, ok. Via! Trovala, trovala, trovala! Dov'è? No, accidenti! No, accidenti, ho sbagliato, ho sbagliato. Ah! No, ho sbagliato, non ho messo la concentrazione! Adesso sì, però. Dovrei riuscire in... Accidenti, devo arrivare al momento giusto. Ok. Vai. No, vabbè, vabbè, fa niente, fa niente, fa niente. No! Sto sbagliando ogni volta, accidenti! Dove sei? No! Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? No, mi dispiace. Allontanarsi! Au! Dov'è? È vicina, ma... Dove cacchio? Dove cacchio si è cacciata? Dove sei che ti faccio un assalto feroce? Dove cacchio è andato? Dove cacchio è andato? Dove cacchio è andato? No! Ah, ho sbagliato! Ecco perché ho fatto l'altro! Ecco perché! Tra l'altro notare... Aspetta, medicina... No, no, medicina... Oh! Oh! Che cacchio! Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? Prendiamolo... Accidenti! Dove? No, 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 no! No, accidenti, mi... Mi coglie sempre la sprovvista in questo momento. Ok. Sì! Oh! Mamma mia! Che balle! Eh... Qui mi darà una D brutta proprio. Me lo sento. Prendiamo meno questo, via! Torniamo da Carlos. Carlos! Con le vostre abilità, possiamo prendere la scuola di questo posto. Sì? Allora, torniamoci... Se è... È aslittato! È bellissimo! No, no, no! Non ando a nulla con te, freak! Ah, bene! Pure in fuga! No! No! No, più che altro, muterebbe anche lui. No, non soltanto morale, Carlos. Arrestiamolo. No, io pensavo che avremmo iniziato a rincorrerlo. Va bene! Ma... In teoria, credo che siamo ancora... Vabbè. Vediamo. S più! Deve essere... Ah, vabbè, perché considera tutti gli altri scontri. Vabbè, buono, buono. Buono, ottimo S più, così. Sì, 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 sì. Bene. Che è successo? Perché vedo molte cose rosse? Sì. Prestito. Sì, da notare che il dialogo era... Era presente in due finestre. Va bene. Ok. Va bene. Andiamo a vedere anche qua. Uomo malato, no? Uomo smemorato. Vediamo un attimo. Che cosa? Che cosa c'è? Ah, aspetta, forse... Ah, ok, ok, ok. Sì, l'altra missione. Sì, sì, giusto, giusto. Perfetto. Quindi, missione compiuta. Ottimo. Possiamo anche andare con quest'altra missione. Va bene. Ma, guarda, direi anche tanto di strano, ma in generale proprio. Eh, sì, si chiamano portali. Purtroppo. Ok. Ma tu guarda che intuito. Ma, vedo l'altro... No, dai! Naga nella zona. Ok, quindi... Allora, intanto... Quindi, è proprio qua che sta... Oh, ecco, ecco, ecco. Ecco qua. Olè! Il portale, ecco, appunto. E lo vede... Sì, giustamente lo vede. Faccio subito... Vabbè, scappa, fai bene, fai benissimo, tranquillo. E andiamoci. Anche qui percorso, però, immagino, anche qua breve. Mamma mia. Oh, mamma. Oh, cacchio. Contenti di rivedermi? Eh, amici... Oh, mamma mia, quello là. Ehm, dicevo... Contenti di rivedermi? Iniziamo subito le danze! No! No! Cosa ho fatto? Ho fatto una magia? No! 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 Accidenti! Magia rovinata! Magia rovinata! Accidenti! Questo lo considero, ovviamente. Vabbè. Au! No, mi dispiace. Eh no, mi dispiace proprio. Sai che c'è? Assalto feroce. Subito! Che cacchio è riuscito... Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Uh! Però niente. Uh! Bella combo! Aspetta, possente. Ah, beh, ok, 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 ok. Tu intanto! Prendiamo anche possente qua. Au! Subito! Torniamo con Arco Vai Oh, pure la barriera adesso Perfetto Che cacchio Non riesco a prenderlo Adesso si No, 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 no Oh Subito La piattaforma è sparita sotto i miei piedi Dov'è? Eh, ah, oh Oh, oh, oh Oh, bene, 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 bene Oh, oh Oh E questo quando cacchio mai mi è successo So Sì, 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 subito, subito Subito Oh, mamma mia Oh, madre di Dios Io vorrei fare compostente qua su Anzi, no, con ascia, con ascia, con ascia Ancora lo abbiamo utilizzato Dai Oh, è la grande ascia Ulla, vai, vai, vai Altre di là Oh, queste sono Ci vuole qualcuno Ci vuole qualcuno rapido Donna Oh Oh No, 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 no Sì Oh No, 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 no Allora, un attimo che lo facciamo anche con possente Allora Uh No, 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 no Vabbè, subito No Quanta vita ancora Uh, quanta No, però aspetta Allora è l'altra Uh, 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 oh No No, lontaniamoci No, no Ok Sì Uh Aspetta Aspetta No Giusto, giusto, giusto Ash No 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 No, 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 no Che cacchio No No Oh Aia No, 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 no Oh 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 No 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 Oh Mamma mia Mamma mia che balle che avete fatto Mamma mia Mi darà una B qua No S più E' perché ho fatto comunque penso Molte mosso ho cambiato abbastanza il legion Quindi immagino se per quello Altrimenti non comprendo non capisco Rilevatore dei portali Ah era questo Ah beh è collision intendo immagino Un attimo Aspetta Ok facciamo No ripara Ah Oh no Aspetta torniamo a riparare Vai 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 Dove stanno Siamo a 30 Ok ok Oh di nuovo Ok Perfetto Grandioso Andiamo da prendere Vabbè tanto E adesso è più sì Questa è più meritata fino ad ora Oh mamma Ma sbrigati in che senso? Ok, meno male, meno male Saliamo anche qua sopra E tu chi sei? Uomo rilassato, ok Che bello il sole Ma ci sono 300 palazzi a coprire, scusami No, non tu Non peraltro, ma Altrimenti impiegheremmo tre anni A fare Saber Ah Ah, bene Uno preso Au Andiamo Che balle Prendiamo materia Prendiamo materia Allora un attimo Vabbè qua ci siamo già passati Se non sbanno Ah no, forse questa è la zona Per la quale non sono passato No Vediamo un attimo No, no, no Questa è la zona per la quale Mi sa che non sono passato prima Credo eh Uh No, eh Al No Ma sei impazzito Ah Vabbè, almeno questo è stato riparato subito Ok Ah, perfetto No, non tanto vicinanza È proprio dietro Oh 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 Nemico nuovo Bene, bene Qua serve bestia Qua mi sa che serve bestia Perché Se va sotto terra Qui Come lo troviamo Idra Ci sta Ci sta Aspetta No, no No Oh cacchio No Ci ho di uno No Eh, pensavo che servisse Eh, servisse bestia Qui No Ok Sì, invece No Come è fatto a non colpirmi Uh Ok Bene Eh Eh, ho capito però Sì, dai, dai, dai Ah, ecco Solo S qua Strano Potonna Saber Calma Oh, portale Quello è chiaramente un portale che Aspetta soltanto che leviamo noi Ma chiarissimamente Olive Olive Che cosa vuole fare Olive Vedete il regalo Scusa No Eh Eh Uh Uh È la pessima che Olive è andata a prenderla, vero? Ecco, appunto Madonna Nonna Subito Subito E che cacchio Ma riuscirò a fare le altre missioni Spero, vero? Dico Dico Vabbè Le missioni Allora, intanto Un po' Oh Bene Battaglia qui Sperando che non si apra un portale Perché io ho la brutta sensazione Che si possa aprire, veramente Vabbè Vediamo Non, non, non Ok Ah Battaglia risolta subito Però Solo 10% Quindi vediamo Oh, oh No Risolta Solamente una Forse perché ho subito danni Va bene Va bene Va bene Risolto anche questo Perfetto Uh No, scusa Scusami Un attimo Saber Non cadere Ogni singola volta Ah Ok Qui bestia però serve Scava una buca Scava una buca Scava una buca La tina vuota Va bene Saber Cadi Oh Che c'è Ah E' qui che ci sta Mi sa Uomo con la tosta Eh beh grazie Con tutto quel veleno Eh sì 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 Facciamo subito Quindi Dove sta Oh ecco Va bene Quindi Sì Scusa un attimo E' uno Vai Quella da notare Anche Subito Anche qua sopra Perfetto Andiamo E' in corsa Sì Vediamo No, 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 no Va bene anche così, dai Mi sa che qui sopra l'altro, vediamo No, però, 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 però Possiamo fare anche questo No, intendevo arco No, aspetta, mi sa che ho sbagliato qua Scendiamo Quindi, ah no, sta di qua, ok, ok, ho visto, ho visto E qui, mi sa che serve effettivamente per essere completamente sicuri Ecco, adesso però posso cambiare Possiamo anche andare a parlare con l'uomo con la tosse Perché tanto abbiamo risolto Sì, 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 sì Abbiamo fatto Ma quindi, in effetti, per curiosità, giusto prevedere Quindi, 4 su 8, 5 su 15 Beh, metà delle missioni secondarie È un terzo di quelle primarie Mamma mia Poi voglio tornare, in effetti, comunque, là Accidenti, voglio tornare, comunque, alla base centrale Mi farà tornare, spero Comunque, molto Allora, torniamo a noi, comunque, sì Olive Olive, vieni qua Non farti snocciolare Che battuta Via Uomo molto confuso, però anche Eh, è subito Ecco, Olive Allora No, un secondo Torniamo un attimo indietro Perché C'è la scala di prima che Ho Che ho allungato Vorrei prendere Vorrei vedere un secondo cosa c'è in alto Dov'è, dov'è, dovrebbe essere No Dove l'uomo L'uomo con la tosse è qua Quindi è da questa parte No, di qua Vediamo che c'è qui sopra O meglio, che c'è qui sotto Vabbè, questo Amicina grande, però, la La volevo, la volevo Quindi è perfetto Vabbè Poi mi scende Ah Se faccio così però scendi subito Buono a sapersi Andiamo per di qua No, non mi fa andare per di qua Ciao, Olive C'è anche la dire che stavamo facendo cose nostre Poi ti abbiamo vista, quindi Ok, ma ti aiutiamo noi No, no, no Da solo il cacchio Ehm, vabbè, vabbè Ehm, vabbè E ha ragione comunque Allora Mi sa che per Brenda poi saltiamo le altre missioni E che cacchio Non facciamo tutte le missioni qua Perché purtroppo l'ho preso in modo strano Questa Allora, vediamo Quindi ci sono Ah, beh, in effetti In effetti posso fare anche Che Oh 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 No, 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 no Subito Via Almeno questo abbiamo risolto subito Mamma mia Ma sì, in effetti Basta tornare In effetti credo che basti tornare Se riesco a tornare effettivamente indietro come vorrei Dicevo Credo che in effetti Allora, un secondo Che qui che ci sta Aspetta Qui che ci sta Da Uomo Ah, ecco qui Uomo preoccupato Vediamo Dai, dai, dai Quindi vicino alle tende Va bene Vabbè, è quello L'abbiamo già visto Posto più Oh, allora abbiamo visto due dei tre già Ah Quindi rivediamo un attimino No, 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 no Oh, sì Le tende però dove Allora Dove c'è più Allora, un secondo Perché devo ritrovare anche Quegli altri Adesso che so Eh, devo fare tutta la strada però Può essere un po' complicato Fare tutta la strada 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 Facendo Andiamo Quindi Ah, perfetto Vicino alle tende Posti elevati Vabbè, posti elevati E devo ritrovarlo Però Ho capito chi è Palese che sia Quindi andiamo anche per di qua C'è anche questa altra missione Che si può fare Intontita Non più Perché il framerate qua Stava calando all'improvviso Donna ansiosa Di nuovo Amante dei gatti No Ah, ecco Aspetta Vediamo un attimino Yuki Sì Vabbè, facciamo questo La gatta smarrita però Perché ha così tanti punti Accidenti Direi che facciamo questo Della gatta E poi per questa sera Va bene così Che questa è una parte Abbastanza È abbastanza lunga Come È abbastanza lunga Come capitolo Questo Ebbè È il decimo di dodici Quindi ci sta anche Vediamo un attimino meglio Ok, quindi Questo è uno No, non è che Ok, aspetto un attimo Facciamo Vai Perfetto Alla grande Alla grandissima Che fortuna Questa è fortuna Vai, vai, vai Bestia mia Vai, vai, vai Aiutaci Vai, 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 vai Vabbè Magari in realtà Tutti i posti Erano utili Poter trovare qualcosa Mai una cosa comoda Ovviamente un portale Ovviamente Mai una cosa comoda Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No, 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 no Mi dispiace Ma qui è uno Adesso arriva anche l'altro No Lo prendiamo Uno No Non lui Non lui Aspetta però Aspetta Pepepepepepepepepepepepepepepepepepe Speravo in altro attacco Parte su Ok a po- No mi dispi- Ahia L'ho mancato Vabbè Lui è mancato Mi è mancato lui Ok Meno male No Subito No Au Au No 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 Preso Subito vai Vai subito Anche per lei Si No Ah Dolore Tanto dolore No Vai Si No 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 Ah Preso male Questo prendo subito invece Oh No mi dispiace È già finito va bene Vai Che cacchio per poco no no ok ho capito Oh vai 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 si 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 Dov'è il gatto dove Eccolo l'amato povero E grazie che spaventato Vieni qua vieni qua Meglio cambiare per religion perché magari con bestia un po' Salviamo subito Povero Povero Come fai ad essere ancora vivo tra l'altro Yuki si chiamavano Yuki Yuki si Eh Diciamo così Certo che lo conosco Saluta Yuki Una va bene va bene va bene Eh per adesso comunque sia tutte le missioni che ho fatto Tutto è bene Bene prima di salutarci però Mi fai fare Ah oh Oh cacchio Si in effetti No 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 aspetta 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 Subito 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 Altro che medicina della strozzina Salute strozzina Vattene via Senza pietà Ale Ma vieni Ex dottore Vai cagà Tu e la tua strozzinaggine Così impari Bene Avendo fatto anche questo dovere Direi che per questa sera va bene così Non so se domani Vorrei fare domani l'episodio Però Forse ci saranno altre Circostanze che Non mi permetteranno di fare l'episodio domani di essere al cenne Però nel caso vi sarò comunque sui social Invece Giovedì Venerdì e sabato Giovedì Giovedì Con Luigi's Mansion 3 Ci saranno Tranquillamente Per il resto Ringrazio tutti coloro che sono passati E spero anche che Coloro che abbiano visto per la prima volta Il mio show Chiamiamolo così Decidano anche di seguirmi su Twitch E spero anche che Appena pubblicherò il video Su YouTube Ci saranno altre persone Oltre a voi a vederlo E spero che lascerete anche un like Perché È brutto da dire però Effettivamente i like possono fare Per il resto Grazie a tutti coloro che Per l'appunto hanno visto E che vedranno E ci vediamo alla prossima E Saber guarda verso il basso Verso non si sa cosa Magari il terreno Che sta un po' così Ma comunque verso il basso Grazie a tutti